Questo orso si era aperto, eliminando la ricostruzione posticcia che era stata fatta negli anni passati abbiamo potuto constatare che la lesione era ancora più importante di quello che ipotizzavamo. Come si vede è completamente aperta. Abbiamo eliminato tutta questa muratura in pietra di fiume dell'Arno e cemento, proprio cemento puro, estremamente grasso. È un malato più grave di quello che si poteva ipotizzare. Ponte Buriano, il ponte romanico che Leonardo da Vinci scelse per lo sfondo della Gioconda, ha bisogno di un intervento di restauro ben più importante di quello già previsto e ci vorrà ancora tempo prima della sua riapertura al traffico, prevista per metà settembre. Il secondo step di intervento sui rostri ha mostrato due amare sorprese. La prima, già ampiamente testimoniata dalla nostra emittente, radici di piante di fico all'interno dei rostri. Una parte del muro laterale di un rostro crollata e lo spanciamento di un altro muro. In pratica, una volta sollevate le pietre esterne, è stato scoperto che quella parte di costruzione non era a piombo. È una delle tante radici che sono sotto il selciato. Il riempimento dal malta militare fino al selciato, tutto in terra, praticamente è stato fertile per questo proliferare di piante. È un problema. Noi abbiamo provato a eradicalizzarle in più in occasione con trattamenti biologici, trattamenti naturali, dandogli prodotti naturali perché siamo sopra l'arno, siamo nella riserva, per cui bisogna stare molto attenti a preservare la natura. Però siamo riusciti a contenerle per alcuni anni, sono riesplose. Una volta che era esplosa in tutto il loro vigore, come vede, hanno contribuito ad allargare quello che era il foro del paramento. Criticità delle quali si è parlato anche nel vertice in prefettura sullo stato delle strade e dei ponti nel territorio aretino e dal quale è scaturita la decisione di proseguire i lavori.